Presidente, una bella iniziativa di solidarietà partita dai cittadini in un momento poi di grave crisi economica. Sì, infatti tutto è nato proprio perché abbiamo visto molte persone in difficoltà e allora è stata presa questa iniziativa, non da me personalmente ma da un'altra persona che non è qui presente, che ha avuto questa bellissima idea di coinvolgere tutte le associazioni diciamo al di là del fiume Metauro, al sud, per poter dare una mano concreta a chi ne ha veramente bisogno, che sono tanti. Si è voluto coinvolgere quelle strutture già predisposte che sono veramente già al lavoro da tanto tempo, quindi la Caritas di Torrette Metauriglia, la Caritas di Ponte Metauro e la Caritas San Giovanni Apostolo. Queste già strutture ci hanno dato una grossa mano per poter organizzare il tutto e diciamo che verrà fatta una raccolta di generi alimentari e anche diciamo ciò che riguarda la pulizia degli ambienti, qui ha dei punti predisposti, questo verrà sabato 13 giugno. E anche la Croce Rossa darà il proprio contributo, in che modo? La Croce Rossa già in questo periodo ha cercato di aiutare tutte le famiglie che avevano necessità attraverso varie parrocchie. Abbiamo preso lo spunto da questa bella iniziativa di tutti gli abitanti e residenti della zona oltre il Ponte Metauro e quindi abbiamo deciso di partecipare con una raccolta che faremo presso il Conad Sant'Orso sabato 13 tutta la giornata. Tutto quello che verrà raccolto verrà portato alla Caritas che provvederà alla distribuzione alle famiglie che ne hanno necessità.